Pubblicata la graduatoria della Regione sui grandi eventi 2022 da finanziare con risorse pubbliche, 35 progetti ritenuti ammissibili con un massimo di finanziamenti erogabili di 50.000 euro, 12 invece sono stati comuni i cui progetti non sono stati valutati ammissibili per motivazione che vanno dall'incompletezza della domanda al mancato rispetto delle norme dell'avviso. L'obiettivo era quello di promuovere il turismo sul territorio calabrese attraverso la realizzazione di eventi da parte dei comuni mediante il contributo dell'amministrazione regionale. Tra i comuni ammessi, il primo in graduatoria con un punteggio di 84 ed un contributo concesso di 25.000 euro è quello di Roccialla Ionica. Seguono Corigliano Rossano e Rende con 77 punti e 50.000 euro, stessa cifra stanziata per Cosenza che di punti ne totalizza 76. Assegnati anche 50.000 euro a Cassano dello Ionio, Villa Piana, Isola Caporizzuto, Praia Mare, Crotone, Paola e Belvedere Marittimo. Novità anche per quanto riguarda i teatri nella seduta di martedì scorso del Consiglio regionale. Il piano triennale dei teatri ha unanimamente acquisito il parere positivo da parte della terza commissione consigliare a seguito dell'audizione del dirigente generale del Dipartimento Istruzione Maria Francesca Gatto che ne ha illustrato gli aspetti strategici e di programmazione. Soddisfatto il vicepresidente Giussi Princi, questo permetterà agli operatori del settore di prevedere per la prima volta una programmazione più sostenibile a medio e lungo termine che consentirà quindi agli stessi di organizzare stagioni culturali con largo anticipo.